In tempo di guerra i giovani uccidono i vecchi, in tempo di pace i vecchi uccidono i giovani. Con queste antiche parole risalenti a un proverbio cinese rivolgo a ciascuna e a ciascuno di voi un cordiale saluto e ringrazio la Presidenza Fidae per questo invito. Poiché inizio la tavola rotonda a me tocca dare il buon esempio di restare nei 30 minuti e questa è la ragione per la quale leggerò l'intervento che ho preparato, mi chiedo scusa di questo. E torno subito al proverbio con cui mi sono introdotto. Pur nella sua brutalità questo proverbio ci ricorda un elemento fondamentale di ogni analisi che intenda davvero e sul serio analizzare il mondo dei giovani. I giovani vivono sempre in un contesto determinato da altri, costruito da altri, preparato da altri, pensato da altri, presidiato da altri. E ciò che essi esprimono, quindi anche i linguaggi tipici del mondo giovanile, le espressioni simboliche del loro stare al mondo, portano sempre taccia di questo contesto nel quale si trovano a vivere. E quindi se non si tiene in conto di questa determinante dinamica intergenerazionale, l'analisi, l'interpretazione dei linguaggi giovanili risulterà sempre al di sotto di quella che dovrebbe essere. Anzi, dobbiamo riconoscere sin dall'inizio che non è mai facile decifrare i linguaggi giovanili, non è mai semplice. I linguaggi giovanili restano sempre, per definizione, sorprendenti, inediti, oltre le nostre possibilità. Guai quel momento in cui noi potessimo comprendere fino in fondo ciò che i giovani portano nel nostro appunto mondo. Però, ecco, questa opera di decifrazione diventa ancora più complessa se non si tiene conto del contesto specifico nel quale i giovani vivono, cioè se non si tiene conto delle relazioni intergenerazionali, del contesto appunto intergenerazionale, di ciò che capita ai giovani in un preciso momento a causa e grazie alla presenza di adulti e dei vecchi. E il proverbio cinese che citavo all'inizio ci dice che il contesto nel quale noi oggi ci troviamo, nel quale i giovani si esprimono, provano a usare i loro linguaggi, ha una terribile sfumatura. E cioè, in tempo di pace i vecchi uccidono i giovani. Ecco, io penso che sia tutti chiaro cosa significa questa parola che ormai non si usa più, la parola vecchio. Sapete cosa significa la parola vecchio? Ci sono vecchi in sala? Quando diventate vecchi? Quando pensate di diventare vecchi? Avete un'idea? Dopo i? Dopo i 21? Qualcuno? 60? L'età pensionabile? Tutti d'accordo su quest'idea? Prima dei 90 la cosa non funziona. Oggi nessun vecchio, che sociologicamente significa una persona che ha superato i 65 anni di età, vuole essere vecchio. E nessun adulto immagina che diventerà vecchio. L'ultima indagine nazionale ci ha confermato che gli italiani sono convinti di diventare vecchi a 83 anni. Ma la speranza di vita media di un italiano è di 82 anni e 6 mesi. Questo fa sì che nella nostra testa pensiamo di diventare vecchi sei mesi dopo la morte. È così che si uccidono i giovani, togliendo letteralmente spazio alla possibilità di diventare vecchi, cioè di farci da parte. Non abbiamo nessuna intenzione di farci da parte. Accostarsi efficacemente ai linguaggi giovanili, di cui parlerò nella seconda parte del mio intervento, richiede la presa di consapevolezza che oggi qualcosa è saltato profondamente in aria. E questo qualcosa che è saltato in aria è il dialogo intergenerazionale, un rapporto pacifico, vero, autentico, tra gli adulti, i vecchi e il mondo giovanile. Perché il dialogo intergenerazionale ha una legge fondamentale, straordinaria, e cioè che solo quando i vecchi fanno i vecchi e quando gli adulti fanno gli adulti, i giovani possono fare i giovani. E quando i giovani possono fare i giovani è il bene di tutta la società che fiorisce. Ma quando, come nel nostro caso, i vecchi non vogliono fare i vecchi, gli adulti non vogliono fare gli adulti, i giovani non possono fare i giovani. Ma se i giovani non possono fare i giovani, non solo questi ultimi stanno male, ma è tutta la società che rischia un grosso danno, un grosso problema. Ecco, da questo punto di vista, vedete, il bene della società dipende quasi completamente dalla possibilità che i rappresentanti della generazione Y e della generazione Z possano fare quello che devono fare, cioè possano fare i giovani. Quindi nati dopo il 1980. E questo non per gentile concessione degli adulti o per gentile concessione dei vecchi, ma perché nella logica stessa delle cose. È il nome che i giovani hanno che dicono questa loro missione. Giovani è una parola che deriva dal latino, juvenis, a sua volta dal verbo juvare, indica forza, vigore, così come una famosa squadra, non ne abbiano gli altri tifosi, che si chiama Juventus. È la stessa etimologia. E giovani indica appunto coloro che rafforzano, che rinvigoriscono. E questo perché proprio tra i 15 e i 30 anni, e solo tra i 15 e i 30 anni, ciascuna e ciascuno di noi ha avuto il massimo della forza fisica, il massimo della forza riproduttiva, il massimo della forza intellettiva, il massimo della forza spirituale, il massimo appunto dell'essere umano. Ma non c'è solo questo, guardate. Se noi prendiamo l'etimologia greca della parola giovane, neos, come fa Papa Francesco in Christus Vivit, abbiamo che all'idea di giovane, oltre alla caratteristica della forza, è collegata anche la caratteristica della novità, la caratteristica della genuinità, della freschezza, della genialità. Papa Francesco non ha avuto, come dire, e timore di dire, in un libro presentato esattamente qui in questa aula, Dio e il giovane, che Dio e i giovani hanno le stesse caratteristiche, in particolare la caratteristica della profezia, la capacità di guardare oltre e diversamente. Perché, vedete, i giovani sono come i famosi nani di cui parla Bernardo di Schartz, i quali, proprio perché sono sulle spalle dei giganti, possono vedere cose che i giganti, i vecchi e gli adulti non vedono, o possono vedere, in qualche misura, in modo diverso, quelle cose che i giganti, gli adulti e i vecchi vedono sempre allo stesso modo. Ed è così che, appunto, si possono creare cose nuove. Vorrei fare un piccolo esempio di questa capacità straordinaria di profezia che hanno i giovani, e anche raccontare un piccolo aneddoto. L'esempio riguarda il mondo digitale, di cui poi ci sarà una relazione specifica. Ecco, guardate come questo mondo digitale ha completamente stravolto la vita di tutti noi. Eppure, all'origine di questa rivoluzione digitale, ci sono persone che non avevano neppure 25 anni, quando hanno dato vita alla Microsoft, alla Apple e, giusto per citare, Facebook, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Quando hanno avviato i loro progetti futuristici, erano neanche giovanissimi, diremmo oggi. Ed è una rivoluzione straordinaria, una rivoluzione che nessuno vuole, in qualche misura, dalla quale nessuno vuole restare fuori, neppure le suore, guardate. C'è un piccolo aneddoto. Quando ero giovane, e mi muovevo per l'Italia, per fare incontri, conferenze di questo tipo, ricordo che appena avarcavo la soglia di un qualsiasi convento, casa religiosa, seminario, monastero, posto al centro della città o sul più alto dei monti, confinanti, la prima cosa che la suora in portineria mi diceva era padre, la cappella è in fondo del corridoio e la sua stanza è di fronte alla cappella. Così, se di notte ha bisogno di parlare con il suo boss, basta che attraversi semplicemente il corridoio. Da diversi anni, sono almeno tre anni, quattro anni, che non faccio in tempo a avarcare la soglia di un monastero, di un convento, di una casa religiosa, che la suora che mi riceve non mi dica padre, anche qui abbiamo internet. E questa è la password del wifi. E cosa ancora più simpatica è che spesso la password del wifi coincida con il nome del fondatore o della fondatrice dell'ordine o della congregazione o appunto con una data che riguarda la canonizzazione o la nascita o qualche miracolo particolare del fondatore e della fondatrice. Poveri fondatori, povere fondatrici. Una vita a seguire, la vita a seguire il Vangelo e poi diventare una password di un sistema wifi. Per cui, da oggi in poi, ci dobbiamo augurare non solo che i nostri nomi siano scritti in cielo, ma che possano diventare anche password di wifi, di qualche ente religioso. Questo è il potere dei giovani, questa è la loro forza, la loro novità. I giovani sono gli eredi del mondo perché, con la forza che hanno, con la genialità, la genuinità di cui sono portatori, possono fare ciò che noi adulti e noi vecchi non possiamo fare più. Possono traumatizzare il mondo. Possono sorprenderci. Possono inserire qualcosa di nuovo. Possono fare sì che la società non invecchi troppo rapidamente. Questo è anche uno dei motivi per cui i linguaggi giovanili debbono restarci altamente alieni. Se li comprendessimo fino in fondo, qualcosa non funziona. Questo richiede anche una sorta di umiltà e quello che io adesso andrò a presentarvi ha anche inevitabilmente un carattere puramente ipotetico. Non si può pretendere di fare questo. Ma il punto problematico qual è? Il punto problematico è che affinché i giovani possano fare quello che devono fare, cioè gli eredi del mondo, è necessario che gli adulti e i vecchi facciano gli adulti e i vecchi esattamente quando sono adulti e quando sono vecchi. Perché se i giovani non possono fare giovani quando sono giovani non ci sono altre possibilità. Non c'è un pianeta B. La giovinezza è appunto uno stato particolare, comporta novità, forza. Ma è una novità, una forza, un'originalità che inevitabilmente è a tempo. Se non la si usa in quel momento lì non c'è più una seconda possibilità. E questo è oggi il nostro problema. Di cui i linguaggi giovanili sono traccia e sono anche in qualche misura elaborazione. E cioè noi adulti non vogliamo fare più gli adulti e i vecchi. Ammesso che qualcuno ancora oggi si riconosca così vecchio, non vogliamo fare appunto i vecchi. siamo davanti a una straordinaria riscrittura della grammatica dell'adultità. A una straordinaria eliminazione concettuale del concetto di vecchio. Cito un dato su Wikipedia. Sapete cos'è Wikipedia? Lo dico per i vecchi presenti. Wikipedia è una ciclopedia online. Siete ancora... Non c'è la parola vecchio. È stata cancellata dieci anni fa. Nella discussione, nella scheda di discussione c'è scritto che per ragioni di dignità umana questa parola non può più essere usata. Ma capite che lì dove non c'è lo spazio per la vecchiaia non c'è lo spazio per i giovani. Perché in un mondo in cui uno a 70 anni è ancora giovane e io a 50 anni sono un teologo giovane non c'è spazio per i giovani. Questo è il dramma in cui... E c'è una riscrittura straordinaria che ha messo benissimo in evidenza Marcel Gauchet, famosissimo politologo francese. Egli registra che il riferimento di noi adulti e di noi vecchi oggi è quello di essere... Il riferimento principale dell'orientamento di fondo della nostra vita è quello di essere il meno adulti possibili. Nel senso peggiorativo acquisito dal termine. Sfruttare i vantaggi della nostra condizione economica aggirando gli inconvenienti della vita adulta. Mantenere una distanza rispetto agli impegni e ai ruoli. La giovinezza ha assunto per noi il valore di modello per la nostra esistenza. Toglietemi tutto ma non la mia giovinezza. E questo ovviamente comporta una liquidazione totale della vita adulta. Infatti facendo della giovinezza il modello dell'intera esistenza l'adulto non intende più impegnarsi in nessuna azione educativa e soprattutto in quell'azione educativa fondamentale che è il traghettare il mondo alle nuove generazioni. Il compito dell'adulto è quello di essere un ponte tra il mondo e le nuove generazioni. Il compito principale degli adulti è scomparire. Questo noi non siamo più in grado di realizzarlo. E lo dice Papa Francesco con la solita franchezza straordinaria bellezza del suo essere Papa e Pontefice. Gli adulti non permettiamo che i giovani occupino il posto che spetta loro. Abbiamo creato una società scrive Papa Francesco che è idolata la giovinezza che spende cifre incredibili per la giovinezza. Pensate in Italia ogni anno si spendono 30 milioni di euro per lozioni contro la caduta dei capelli ed è a tutti noto che l'unica forza veramente in grado di arrestare la caduta dei capelli sia il pavimento. Abbiamo privilegiato la speculazione invece di creare lavori dignitosi e costringiamo i giovani a bussare a porte che rimangono sempre chiuse. La mia ipotesi di lavoro è la seguente. Non possiamo intendere fino in fondo i linguaggi giovanili se non teniamo conto di questo contesto nel quale si trovano a vivere. Un contesto nel quale non c'è posto per loro e per loro ci sono solo porte chiuse. E allora ecco l'ipotesi. I linguaggi che adesso vado a analizzare molto velocemente recano traccia di questa fatica di questo disagio ma sono anche un modo per elaborare questo disagio per dare per darsi e dare loro una qualche una qualche speranza. Ecco innanzitutto il mondo digitale il linguaggio più conosciuto da parte dei giovani non mi dilungo perché c'è il professor Adamoli che ha un nome meraviglioso tra l'altro è Matteo e che quindi parlerà di tutto di tutto questo ma certamente ecco il mondo digitale presenta ovviamente come tutti gli altri linguaggi che adesso citerò una fondamentale ambiguità e ambivalenza da una parte certamente può essere un luogo di fuga un luogo di ritiro rispetto a questo mondo che non ha occhi per te che non ha in qualche misura interesse per te in quanto sei sei giovane può diventare ovviamente anche una forma di ribellione attraverso l'esaltazione narcisistica del proprio io ma internet diventa anche un luogo di elaborazione e con la fatica da parte del mondo giovanile pensiamo alla forza appunto che ha questo di creare reti di amicizia nei nostri giovani pensiamo per un momento alla forza che ha avuto sta avendo internet per creare uno dei valori più importanti che la società degli adulti e dei vecchi ormai non è più in grado di esprimere l'autenticità su internet se tu fai una recensione falsa ti scoprono dopo tre secondi se appunto se cerchi di barare le regole sei fatto fuori in maniera rapidissima e poi ecco paradossalmente lo stiamo vedendo proprio in questi giorni internet può diventare un luogo dove si organizza anche nuove forme di politica per cui l'esperimento ancora ovviamente in fieri delle sardine e dice di questo luogo che ha la capacità di trasformarsi in pratiche di buone comunità l'altro elemento la musica un linguaggio decisivo perché la musica è spazio di creatività proprio di quella creatività che viene negata oggi al mondo al mondo giovanile viene interdetta al mondo giovanile come vi dicevo anche nel mio caso spesso mi si dice che sono un giovane teologo da vent'anni sono un giovane teologo ma questo è l'unico modo per non farmi contare niente nei luoghi dove si decide qualcosa della vita della chiesa essendo un giovane teologo devo stare in silenzio aspettando che quegli altri giovani teologi di 75 80 anni si spengano o succedano e così via allora la musica è uno spazio anche qui certamente c'è l'ambivalenza può essere uno spazio di fuga dal mondo degli adulti chiudere le orecchie alle ossessioni alle ossessioni tristi di noi adulti che valutiamo tutti in termini di rendimento in termini appunto di potenza di giovinezza di viagra e così via ma la musica è anche luogo in qualche misura appunto di resistenza mi pare che stia ritornando qualcosa come furono gli spirituals afroamericani è una protesta potente contro le passioni tristi Papa Francesco ha descritto la nostra società come affetta da una infinita tristezza e i giovani che hanno l'animo puro pulito fresco ingenuo e anche genuino avvertono quanto è triste il mondo degli adulti e allora questa musica che diventa una sorta di preghiera a un Dio che si ha un senso la sua presenza è un Dio della gioia è un Dio della festa quanta festa c'è nelle nostre comunità religiose quanta festa c'è nelle nostre chiese quanta festa c'è nei luoghi istituzionali quasi nero quasi nulla l'altro elemento la fotografia un linguaggio straordinario molto amato dai giovani grazie anche a questi strumenti così rapidi e anche così precisi quali sono gli smartphone di ultima generazione e spesso il soggetto privilegiato è la natura sia la natura bella sia la natura degradata dal sviluppo troppo selvaggio che da troppo tempo è in atto e proprio questo contatto che permette la fotografia che è un contatto alla giusta distanza per fare le foto bene non bisogna essere troppo troppo vicini che sta alla base secondo me di quella mente ecologica che ormai abita il mondo dei giovani con l'onda verde appunto con il movimento legata a Greta Gutenberg ecco è uno stupore la fotografia sta insegnando lo stupore per questo pianeta che è l'unico tra quelli appunto che noi conosciamo che permette una forma superiore di vita un permesso questo cioè la possibilità questa che gli scienziati ancora non riescono a spiegare ma che certamente la custodia dipende da noi una parola poi sulla street art sui murales sui graffiti e qui è stato già anticipato l'idea è lo spazio voi non ce lo date ce lo prendete voi anche qui vorrei fare solo una piccola incursione poi c'è Don Antonio che è molto più esperto di me su queste cose però vedete in un tempo in cui gli adulti non cercano i giovani di giorno non si cercano mai i giovani allora ecco che la street art i murales i graffiti sono elementi attraverso i quali i giovani fanno presenti si fanno presenti nei luoghi quotidiani dove normalmente sono esclusi e allora ecco i sentimenti che abitano la street art la protesta la rabbia la rivoluzione la libertà la creatività e poi ecco tutta un'altra serie di elementi che sono già stati citati il camuffamento la pseudonimia che io interpreterei oltre come è stato fatto come appunto qualcosa che ha a che fare con la la timidezza degli artisti anche come un gesto altamente politico il mio nome non conta perché il mio nome è il nome di tutti gli altri questo è anche dietro ogni artista che ha una sigla particolare c'è tutto un insieme di giovani che prende in qualche misura voce poi appunto la velocità con cui vengono fatti questi quadri si fanno di notte la rapidità la precisione sono certamente segni di un disagio come no ma sono segni di un disagio che prova a elaborarsi sono segno ovviamente di questa elaborazione del disagio che va nella logica di una forma di resistenza al cinismo con cui noi adulti quando parliamo con i giovani usiamo diciamo questo mondo non si può cambiare ci sono delle regole ferre ed è tutta colpa di Bruxelles è tutta colpa di Trump è tutta colpa dei cinesi quindi ci dispiace no questo cinismo questo anzi come dice Colette Soler una delle allievi più straordinarie di Jacques Lacan questo narcinismo di noi adulti viene rifiutato dai dai giovani e poi abbiamo ancora la giustizia il linguaggio della giustizia le grandi appunto i grandi le grandi raduni le grandi manifestazioni appunto di questi di questi giovani che spesso disertano in qualche misura i luoghi istituzionali come quelli della politica o quelli ecclesiali ma paradossalmente è solo il non voto il non andare a messa l'unico modo per farsi vedere dai preti o dai politici è una forma anche qui di resistenza a quella elefantiasi della burocratizzazione della istituzionalizzazione degli spazi di noi adulti pensate che nella messa avete presente cos'è la messa no? nella messa anche le preghiere dei fedeli sono organizzate da un tizio che abita ad Alba e prepara le preghiere dei fedeli per 55 milioni di cattolici italiani io ho abitato per anni in una comunità di suore e noi puntualmente tutte le domeniche pregavamo per i bambini della nostra comunità un giorno ho detto io figli non ne ho non so voi però leggevamo così pedistiquamente pensate che protesta no? molto interessante che senso ha andare in una comunità che prega per bambini che non ci sono che non possono esserci in qualche in qualche misura ma vorrei ricordare almeno la marcia per le nostre vite fatta nel marzo del 2018 vorrei ricordare il documento della riunione presinodale fatta da 300 giovani in preparazione del sinodo e non possiamo non mandare un pensiero a ciò che sta capitando a Hong Kong dove ogni forma di manifestante ogni manifestante deve rischiare la propria vita l'ultimo gli ultimi due elementi i tatuaggi è un linguaggio che ci sorprende ed è giusto che sia che sia così hanno a che fare in qualche misura sicuramente anche qui l'ambivalenza con quel come dice Gustavo Pietropolli Charmé quel infinito desiderio di ammirazione il tatuaggio diventa anche farsi un tatuaggio per mostrarlo su Instagram o da qualche altra parte ma i tatuaggi dicono anche molto molto di più perché testimoniano di una nuova comprensione che le nuove generazioni hanno del proprio corpo nel senso che il mondo nel quale noi viviamo costringono i giovani a ridurre appunto il proprio mondo solo al proprio corpo non c'è più un mondo corpo ma c'è un corpo mondo è una restrizione incredibile il corpo che diventa in qualche misura l'unico spazio dove si può scrivere la storia dove si può segnare qualcosa il tatuaggio quindi come l'unico modo per lasciare un segno in questo mondo dominato da noi adulti ma c'è ancora dell'altro storicamente i tatuaggi sono proprietà degli uomini che vanno in prigione e dei marinai cioè di persone che sono messe ai margini della società o che non hanno una vera e propria società perché si dice i marinai avevano una famiglia in ogni porto no? Qui mi pare che ha ragione Papa Francesco e cioè emerge un senso di orfanezza lui usa questa parola in Christos Vivit dei nostri giovani si sentono privati del mondo è la prima generazione di senza mondo la prima generazione che rischia come dice Gustavo Zaghebeschi che rischia che il suo diritto di succedere a coloro che l'hanno preceduto non venga rispettato come come si conclude questo mio discorso dobbiamo affermare che della forza della novità della creatività dei giovani non possiamo fare a meno questo è il grosso messaggio che Papa Francesco intende a mio avviso rilanciare con l'evento del 14 maggio del 2020 ed è compito di ogni istituzione lo dice Papa Francesco riattivare il dialogo intergenerazionale convincere gli adulti che solo facendo gli adulti i giovani possono fare i giovani convincere i vecchi che solo facendo i vecchi i giovani possono fare i giovani e può ripartire il nostro cammino e la chiave di tutto questo è appunto l'amore l'amore dobbiamo convincerci che solo nella misura in cui noi adulti e vecchi ci convertiremo dall'amore per la giovinezza verso l'amore ai giovani questo pianeta ha un futuro grazie della vostra attenzione grazie 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 grazie